La sfida dei cambiamenti climatici è una sfida che deve essere affrontata con lungimiranza. Una delle sfide principali è quella dell'efficientamento della risorsa senza negare l'utilizzo a un mondo produttivo agricolo che ha bisogno di acqua per continuare a produrre le eccellenze agroalimentari di un territorio che è una dimostrazione reale di quante DOPE e IGP abbiamo. Quindi dobbiamo vincere questa sfida andando a fare investimenti e soprattutto andare a fare delle progettazioni che riescono a coniugare la tenuta dell'ambiente con quella che è la produzione agricola e quindi l'economia di un territorio. Ecco, quello che noi stiamo cercando come AMBI e come Consorzio di Bonifica di mettere in campo è far capire al nostro paese che la cultura dell'agricoltura in rigua deve essere inserita nel DNA del nostro paese perché solo così riusciamo a difendere questo straordinario patrimonio che è un patrimonio economico, sociale ma obbligatoriamente anche ambientale.